Kiev è diventato una pedina nel gioco di innebolimento della Russia, scrive Los Angeles Times. Gli esperti del quotidiano propongono all'Occidente di provare a valutare la crisi ucraina dal punto di vista di Mosca, mentre Poroshenko ha rivelato al quotidiano tedesco Bild che non ha timore di una possibile guerra con la Russia, salvo precisare se ci sarà il supporto dell'Occidente. A quanto sembra, proprio per ottenere tale supporto sono partiti per Washington per la seconda volta i comandanti sul campo della Guardia Nazionale Ucraina. Sulle avventure del comandante Semenchenko e dei suoi commilitoni, ascoltiamo il servizio di Valentin Bargano. Prima del suo secondo viaggio oltreoceano, Semenchenko ha indetto una mobilitazione. Ad accompagnarlo si sono offerti altri due comandanti, Yuri Berosa del battaglione Nepar 1 ed Andrei Teteriuk dell'unità punitiva con il nome Beffardo di Pacificatore. Il lungo viaggio è andato storto sin dall'inizio. Il trio per poco non è finito a Mosca. I tre sono partiti per Washington per incontrare il senatore John McCain. Lo scalo previsto era francoforte. L'enorme fila e l'innata gentilezza dei comandanti non hanno consentito a Semenchenko, Teteriuk e Berosa di saltare la fila ai controlli di sicurezza. Nella confusione, poi, stavano per imbarcarsi sul volo per Mosca. Una volta realizzato l'errore, era troppo tardi. La coincidenza per Washington era persa. Così, l'aeroporto di Francoforte ha riconfermato la sua fama di sfortunato per i politici ucraini. Già qui in precedenza, l'ex ministro degli interni, Yuri Lutsenko, è stato arrestato per ubriachezza molesta. E sempre qui, i tre comandanti si sono dovuti arrendere alle circostanze. Dopo che ad agosto le truppe della Guardia Nazionale Ucraina sono finite nella sacca di Ilovaisk, gli stessi soldati avevano mosso accuse nei confronti dei comandanti per mancanza di addestramento e codardia. Ma nella sacca di Francoforte, i comandanti sono finiti in circostanze ben diverse. Hanno dovuto lanciare un appello su internet, visto che Semenchenko e dei commilitoni non avevano i visti. Siamo pronti a mostrare le ricevute di pagamento dei biglietti se richiesti. Il vitto, di bordo, non ci è stato offerto. Berosa ha portato con sei lardo. Già mangiato, scrive Semenchenko. Di fronte a tale disgrazie è intervenuto il consulio ucraino, visto anche che Semenchenko ora è deputato, ed alcune persone della diaspora locale. A quelli che volevano discutere con i comandanti sulla situazione ucraina, è stato proposto di farlo nel terminale Z. Proprio lì è stato improvvisato un centro di reclutamento nei battaglioni di volontari. Una persona si è pure iscritta. Alla fine, con il ritardo di un giorno e privi del vitto di bordo, il trio ha raggiunto Washington. Da lì Semenchenko ha fornito aggiornamenti via Facebook. Lo scopo principale della nostra visita è l'adozione di una decisione del congresso favorevole all'aiuto militare all'Ucraina. C'è la possibilità che questa settimana il Senato USA sollevi di nuovo la questione della fornitura di armi all'Ucraina, scrive. Per noi questa è un'occasione concreta per ricevere il supporto dal nostro alleato strategico. La nostra delegazione ha intenzione di approfittare di questa opportunità. Semenchenko ha redatto questo testo nove volte, non riuscendo a decidere se c'è una forte o semplice possibilità che questa settimana il congresso valuti il progetto di legge 2277. In effetti, l'atto sul contrasto all'aggressione russa in Ucraina giace al congresso dalla primavera. La vittoria alle elezioni dei falchi repubblicani gli ha dato motivo di annunciare la sua pronta ratificazione. Semenchenko aveva annunciato incontri nelle sedie dei partiti e delle organizzazioni governative, ma, a parte due foto, la prima scattata in un luogo imprecisato, la seconda in strada di fronte al palazzo del Senato Russell Building, non hanno fornito alcuna testimonianza sui negoziati annunciati. Mantiene in silenzio anche John McCain, che non ha avuto l'occasione di assaggiare il lardo promesso, visto che è stato mangiato durante il viaggio dai tre commilitoni. Ai suoi tempi, l'aspirante registra Semenchenko, all'epoca noto con il suo vero nome, Konstantin Grishin, non è riuscito a conseguire la laurea agognata. Così, per la seconda volta, ci riprova con la sceneggiatura del suo viaggio in America, ma senza successo. Così, per la seconda volta, ci riprovi gli domani. Grazie a tutti.